Ah, basta così. Metti qualcosa che ti piace. Sì, fosse facile. Will Smith Willennium. Sì, come Millennium. Sì, è da tanto che qualcuno non compra un cd. Lighthouse Family. Sono bravi. Io adoro i Lighthouse. Cazzo, Susan Boyle? Sì. Perché? Fa un bel volo. Cosa? Ma che fai? Oh oh. Non ti... Non Bublé. Sì, Bublé. No, 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 sei pazzito! Sì, di qualcuno così, Tony! Radiohead. Quello non è mio. E ci credo. È bello. È di Jill. Gliel'ha dato Lisa. Ah sì? Sì, li amava. Alleluia! La giornata. Grazie a tutti.